E' riesplosa questa mattina sotto i portici del comune di Salerno la protesta dei lavoratori delle cooperative sociali senza lavoro da tre mesi ormai da quando l'inchiesta giudiziaria ha travolto e fermato i servizi erogati dalle cooperative e allo stesso tempo bloccato i dipendenti. A scatenare l'agitazione è stata la pubblicazione del nuovo bando di durata biennale da parte del comune di Salerno che però diversamente da quanto promesso non ha incluso in maniera vincolante la clausola sociale quella che impone all'impresa che si aggiudica l'appalto per la gestione dei servizi di occupare gli ex dipendenti. A differenza del primo bando della durata di soli tre mesi in cui la clausola era obbligatoria ma che non ha trovato nessuna impresa interessata ad intervenire in questa seconda procedura sarebbe una sorta di optional alla clausola sociale con un punteggio nemmeno tanto alto. A farlo notare è stato questa mattina il rappresentante sindacale dei lavoratori Angelo Rispoli che ha cercato di rassererare gli animi dei lavoratori che in un momento di rabbia hanno effettuato anche un blocco stradale. La cosa grave è che non ci sta la clausola sociale che è diventato un accessorio neanche tanto determinante per coloro che partecipano. Tenga presente che le ripeto chi dichiara di avere i coricoli su 100 a 15 punti, chi fa un ribasso su 100 a 30 punti quindi i lavoratori valono meno di soldi, meno di macchine.